Ultima settimana di sprint per i partiti, che in questi giorni si giocano il tutto per tutto in vista delle elezioni politiche di questo fine settimana. Dal centrodestra, il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi fa chiarezza sulle intenzioni del partito e prende le distanze dall'Ungheria di Orban, dichiarando di guardare a Bruxelles invece che a Budapest. Sguardo puntato sull'Europa anche per il leader del PD Enrico Letta, che nel corso dell'incontro alla stazione marittima di Napoli con l'ingovernatore della Campania, Vincenzo De Luca, ha sottolineato come l'Unione Europea si è preoccupata per quello che accadrà in Italia questo weekend. Sulle spalle di noi italiani, di noi elettori italiani, domenica prossima, sta non soltanto il destino dei nostri territori, non soltanto il destino dell'Italia, ma sta il destino dell'Europa. L'arrivo di Letta a Napoli però non è stato solamente occasione di riflessioni politiche, ma anche di protesta. A dare il benvenuto al leader del PD con un corteo, infatti, un manipolo discretamente corposo di studenti e studentesse, scese in piazza per protestare contro l'alternanza scuola-lavoro. Letta non sa con chi vuole governare, incalzato nel corso di un'intervista a Metropolis il leader di azione Carlo Calenda. Gli elettori non sanno cosa farà il PD del loro voto, visto che lui ha detto di non voler governare né con la destra né con la sinistra. Richiama all'oggettività il leader del carroccio Matteo Salvini. Io non credo ai sondaggi, l'unico sondaggio ce l'avremo domenica sera, le parole del leader della Lega. L'importante è che vada a votare tanta gente. A puntare ancora su Mezzogiorno Autonomo è la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. Sosteniamo da sempre l'autonomia regionale in un quadro di coesione nazionale, e il programma comune del centro-destra ne è l'ultima conferma. È arrivata a meno di sette giorni dall'apertura delle urne la benedizione di Grillo ai 5 Stelle, subito commentata dall'ex premier Conte con entusiasmo, per poi tornare a sparare a zero sui suoi avversari politici. Le forze politiche sono in disaccordo su tutto, ma solo su una cosa sono d'accordo. Volevano e vogliono fare fuori il Movimento 5 Stelle. Nel corso di una conferenza all'interno del cinema modernissimo di Napoli, infine, l'ex primo cittadino partenopeo Luigi Di Magistris ha espresso alcune considerazioni sull'esito delle elezioni imminenti e sull'impatto che Unione Popolare sta avendo sulla politica italiana. Al di là del risultato del 25, che secondo me sarà buono, credo, e questo è l'entusiasmo che sto percependo, che finalmente si riesce a costruire politicamente e istituzionalmente quel luogo che in Italia mancava da troppo tempo.